Eccoci in studio con la nostra pagina sportiva che apriamo parlando di basket. Quarta sconfitta consecutiva per l'Enel Brindisi contro il Monte Granaro per 93 a 86. Un brutto stop per i ragazzi di coach Bucchi alle prese con una scarsa propensione al sacrificio. Si salva solo chi viene dalla panchina. Bocciato Gibson ottenuto giustamente fuori nell'ultimo quarto. L'americano ha perso la voglia di giocare con questa maglia. Domenica partita interna contro Avellino. Ottava giornata di ritorno della Lega di A. Di fronte ad Ancona il Monte Granaro di coach Le Calcati e l'Enel Brindisi riduce da tre sconfitte consecutive. Due squadre che prediligono il gioco d'attacco rispetto alla difesa. Ha vinto Monte Granaro per 93 a 86 ma l'Enel ha giocato bene solo nell'ultimo quarto. Peraltro con le riserve e con un anonimo Gibson in panchina. Ora siamo alla quarta sconfitta consecutiva. Solico tocco in tetto iniziale per l'Enel Brindisi. Mentre Monte Granaro è partito con Di Bella, Banzo, Anciarini, Campane e Slay. Primo tempo in cui l'Enel dà l'impressione di giocare come sa. Almeno in attacco Gibson e Reynolds appaiono più concentrati. Pursi ancora lontani dalla migliore condizione. Qualcosa da registrare invece in difesa. Le prese con avversari bravi sia sotto canestro che dalla distanza. Anche Monte Granaro infatti preferisce l'attacco alla difesa. Anche se con una piccola zona messo spesso in difficoltà gli ospiti. Ma in attacco perdono tanti palloni. Primo quarto comunque 24-22 per Enel. In evidenza Simons e Gibson per Brindisi. Slay e Ciccerine per i marchigiani. Nel secondo quarto c'è un iniziale piccolo crollo per Brindisi. Che fa spesso confusione in attacco. Solo Simons dà spettacolo. Dall'altra parte, coccere calcati. Può fare affidamento sugli efficaci di Bell e Johnson in esterno. E sui lunghi Slay amoroso. Questi ultimi bravi anche da tre punti. Nell'Enel è l'entrandoia che finalmente mette un po' d'ordine. Realizzando anche due triple che tengono in partita l'Enel. Ma è la difesa che non riesce a trovare i giusti equilibri. Soprattutto sugli esterni avversari. Brindisi pecca anche in concentrazione. Come nella circostanza di uscita di un time out. Perdendo in generamento un pallone. A metà gara Montegranaro avanti per 49-40. Crollo Enel in avvio del terzo quarto. Montegranaro si veste da Lakers e prende 21 punti di vantaggio. Brindisi è inconsistente. Bucchi chiama Gibson e Reynolds in panchina. Davvero due fantasmi. Due getti misteriosi. Entrano Fulz, Formenti e Endoia che almeno mettono l'anima in campo. E anche punti. Fulz infatti è in gran serata. Brindisi recupera anche se appare tardi. All'ultimo intervallo Montegranaro avanti per 72-58. Bucchi nell'ultimo quarto boccia Gibson tenendoli in panchina fino al termine. Una sonora e opportuna lezione a un giocatore senza motivazioni. Bucchi preferisce la panchina e ha ragione. Gioca anche Zerini dopo quattro partite a secco e gioca bene Brindisi in maniera perfetta. Con tanta determinazione e tanta qualità. Con Doi e Vigiano. Montegranaro sente la pressione e si scioglie. Purtroppo però lo svantaggio era enorme. Alla fine i marchigiani vincono per 93-86. Migliori realizzatori Vigiano con 21 punti per l'Enel e Di Bellesrai per Montegranaro. Si è trattato di una partita che praticamente negli ultimi secondi ha portato Brindisi addirittura sotto di quattro punti. con la possibilità di recuperare ma poi è successo di tutto con palloni persi, errori e tutto quanto che comunque poi ha permesso ai padroni di casa di dare una distanza di 7 punti sicuramente non meritata nell'ultimo quarto ma meritata per il resto della partita. Domenica partita interna contro Ravellino. Squadra in gran rimorta. Speriamo che la lezione subita da Gibson gli serva a dargli la carica. E' finita con un pareggio la trasferta in terra a campana degli uomini di Mister Ciullo contro il Gadiator. Uno a uno il risultato finale di una gara che ha visto dominare quasi fino alla fine i bianco-azzurri che comunque tornano a casa con un risultato tutto sommato soddificente che gli consente di raggiungere in classifica del Nardò. Domenica Alfanuzzi attesissimo. Derby contro il Foggia. Ad un passo dalla vittoria. Si è concluso in parità l'atteso match di ieri tra Gladia e Torcittà di Brindisi. I bianco-azzurri scendono in campo con un 4-4-2 contando l'assenza di Assane e Mirabè. Novembre resta in panchina sostituito dal giovane Agostini e tutti gli occhi sono puntati su Cacace con Bova adattato a destra, Stajana a sinistra e Frascello al suo fianco. Sireno e Manco sono invece aiutati anche dagli esterni Raboragine e Pennecchia e dalle punte Albano e Tedesco. Dopo un inizio partita abbastanza sofferto dai bianco-azzurri, la squadra cittadina spezza la tensione segnando il gol del vantaggio al tredicesimo della ripresa con l'azione di Bova, Frascello e del punto di Cacace. L'incontro sarebbe anche potuto finire con un netto vantaggio del Città di Brindisi vista l'energia in campo messa dai giocatori e le due occasioni gol respinte dall'avversario Maiellaro. La prima un'azione Laboragine Albano e la seconda Manco Pennecchia. Dopo due azioni gol vittoria sprecate, a circa 6 minuti dalla fine arriva il pareggio messo a segno da Bizzarro della squadra di Squillante che al termine della partita ammette mai come questa volta ha avuto paura di perdere. Amarezza invece è ciò che si percepisce ascoltando il dopo partita di Ciull e compagni nonostante la consapevolezza di aver creato ancora una volta molte occasioni gol in un campo difficile. A conclusione della partita i bianco-azzurri hanno ricevuto un sentito applauso dei tifosi per aver tenuto testa ad una formazione, a detta di tutti, imbattibile. Passiamo al volley. Nell'ultima giornata del campionato di categoria Under-14 le ragazze dell'Eden Café Assi Mansoni Pallavolo Brindisi hanno conquistato le ultime due vittorie in palio. Nel concentramento a tre disputato presso il palasporto di Ostuni le bendisine hanno chiuso la fase eliminatoria battendo le avversari di turno del materiale edile semera Rostuni per 2-7 a 0, mentre nella seconda gara hanno battuto le ragazze del volley San Pietro qualificandosi per i quarti di finale in programma domenica 24 presso la palestra del liceo pedagogico Punzi di Cisternino contro l'Atena Club e del volley San Lorenzo Francavilla. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.